Ciao, oggi parliamo dello step numero 8, ovvero tutti quei prodotti che si usano sul contorno occhi. È uno step che già conosciamo e d'abitudine si differenzia tra crema viso e crema contorno occhi. I prodotti coreani sono ricchissimi di principi attivi e molto molto anche differenziati nella consistenza e anche per diversi risultati che possono dare. Abbiamo prodotti più cremosi, più densi, che vanno bene per un contorno occhi più segnato, più stanco, più secco e anche dei prodotti in gel più freschi che magari hanno una funzione di stimolazione del microcircolo e rinfrescante, quindi anche proprio per andare a sgonfiare, più idonei anche per gli un po' più giovani o comunque a chi soffre di gonfiori e borse. Volevo farti un piccolo accenno su occhiaie e borse. Purtroppo la cosmesi ci può solo aiutare in parte, nel senso che sono delle problematiche che dipendono da tantissimi fattori, tra cui quello genetico. Quindi non possiamo richiedere un miracolo al nostro cosmetico, possiamo però semplicemente cercare un prodotto adatto che magari aiuta a migliorare la situazione. Inoltre, noi l'abbiamo compreso in questo step perché stiamo parlando del contorno occhi, sto parlando appunto dei patch che si usano, sono praticamente delle maschere in idrogelo o in tessuto che si vanno ad applicare proprio nella parte del contorno occhi. In realtà, questo tipo di trattamento, e ve li faccio vedere, mi sto riferendo a questo tipo di patch qui, che si trovano anche nelle scatoline e sono imbevuti di siero. Questo tipo di trattamento, dicevo, io lo consiglio dopo il tonico, magari al mattino come pronto soccorso per distendere un po' i contorno occhi e anche un po' per sgonfiare. Perché sono dei patch appunto molto molto imbevuti di siero, se noi li andiamo a mettere dopo i diversi trattamenti, che magari possono essere anche un po' oleosi, rischiamo che scivolano in lino giù. Invece, devono stare ben appoggiati e aggrappate alla nostra pelle, quindi consiglio di usarli dopo lo step del tonico. Come applicare la tua crema per il contorno occhi? Allora, bisogna fare molto attenzione. Innanzitutto il prodotto non deve finire dentro gli occhi, comunque non deve andare a contatto con la parte interna dell'occhio, perché altrimenti l'occhio si può gonfiare, irritare, e quindi andiamo a assortire l'effetto contrario proprio. Bisogna applicarlo in maniera molto delicata, preferibilmente con l'anulare, lungo l'osso in poche parole, quindi abbastanza lontani dall'interno dell'occhio. La parte superiore bisognerebbe evitare la palpebra mobile, però io consiglio anche di darlo in questa parte qua. Poi, si può applicare, a mio avviso è una cosa molto utile anche per sgonfiare proprio un pochettino l'occhio, nella parte più esterna, con un movimento anche circolare, in modo proprio da ristimolare la circolazione dell'occhio. È quindi una parte molto molto delicata, che va trattata con tantissima delicatezza. La maggior parte dei cosmetici coreani sono studiati proprio per questa parte, con dei principi attivi mirati, mirati a sgonfiare, a lenire, ad alleviare le rughe, a mantenere il nostro contorno occhi molto molto idratato ed elastico. Inoltre, un consiglio che ti do è di utilizzare il tuo contorno occhi anche su altre parti, ovvero sul contorno labbra, magari sulle naso labiali e su qualche rughetta di espressione che ci viene in questa parte, perché appunto sono solitamente delle creme molto ricche di principi attivi, molto emollienti e quindi vanno ad aiutare quelle parti che purtroppo si segnano di più con la mimica facciale. Bene, ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!